È tornata in Commissione Agricoltura la questione del riconoscimento d'oppa all'arrosticino abruzzese, risoluzione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia. Oggi ci sono state alcune audizioni, in primis quella di Lorenzo Verrocchio, promotore dell'Associazione Regionale Produttori Arrosticini d'Abruzzo e rappresentanti di altre associazioni. Loro sostengono la posizione dell'IGP. L'unica praticabile in questo momento, noi come Associazione Regionale Produttori Arrosticini d'Abruzzo, puntiamo sull'IGP per questo motivo, ma questo non significa, pur in assenza di una filiera zootecnica ovviene a scopo di carne, che non abbracciamo un'ipotesi progettuale al momento solo futuribile per un potenziale marchio d'oppa, qualora se ne creassero in futuro le condizioni. Le condizioni che non sono determinate da noi, ma sono richieste sia in termini qualitativi che quantitativi dall'Unione Europea. La guerra dei marchi infatti vede contrapposte diverse associazioni, i coldiretti ad esempio insiste per il DOP, le altre per l'IGP. La differenza sta nel fatto che per la DOP, denominazione di origine protetta, il prodotto deve essere allevato e macellato in Abruzzo. Per l'IGP invece la carne ovina può essere importata. La DOP però ha difficoltà perché in regione ci sono circa 140.000 capi contro i 3 milioni, ad esempio, della Sardegna. Per questo, per Verrocchio e la sua associazione, l'IGP è l'unica strada percorribile.